C'è una cosa però che vorrei mettere subito in chiaro, dottore. Dica. Che con me non si faccia mai girare l'ico. Lico? Licoglioni. Ma che vuoi? Tu non hai visto niente, non sai niente, non hai sentito niente. E allora? E allora mi sa tanto che tu potevi piandere il culo la venticea. Come si fa a telefonare qua? Basta schiacciare il tastino verde. Il tastino verde, ecco fatto. Ma io devo telefonare a Roma però, eh? Veramente non si potrebbe, però c'è un trucchetto, no? Con l'altra mano schiacci il tastino rosso. Questo qua? E va bene, l'ho fatto. Adesso faccia lo 06 e poi il numero. Con chi lo faccio, quel cazzo? O e ti fanno l'occhi terzo? Quando torni mi ci porti? Certo, come no? Ma papà, e te quando lo fai un altro l'occhi? Che vuol dire? Beh, mica mi hai trovato sotto un cavo. Lo sai che l'occhi terzo gli hanno fatto un monumento a Filadelfia. E perché? E gli hanno rotto l'occhi, gli hanno rotto il naso. E a lei, spettò? A me mi hanno rotto il cazzo. Taci tua, un picciolo. Ecco, ma vedi. Cambio palla. Come cambio palla? La cambio sì che questa mi è diventata quadrata. Netto. Out. Cazzo. Come cazzo? Sto cazzo di piccioni ce l'ha proprio con me? Eccola, vedi? Dottore, la fa una partita con me? Ma io son dilettante. Eh, le fa bene alla linea. Giusto per farla contenta. Dov'ado? Di là? Di là. Sì, arbitro io. Pronto, dottore? Respiri bene. Perché? Per l'ossigeno. Un bel respiro. Si riempie i polmoni. Batto io. Dottore, ribatta, ribatta. Ribatta il cazzo. Chi è? Prisa, presa, 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 presa. Partita sospesa. Ma perché? Sostituzione palle. Alcela. Che c'è? Oh. Ah, sai una cosa? Mi sa che se siamo scordati è acceso. Ma come, nella pianta non c'è stava? Eh, proprio sulla pianta che se lo siamo scordati. Secondo me dovremmo farla. Ah, Nico, e quella è la camera nostra? Beh, allora fammo qua. Ma che sei matto? Questa è la camera del pubo. E allora vado qua. Ecco, a parlare il sapientone, quella è il salotto. Così se qualcuno ci vi ha trovato, sai che bella figura che ci fanno? Beh, l'unico posto che ci è rimasto è quello lì, no? Questo? Ma questa è la cucina. E da andare a cagare, scusa, al prato. Allora. Allora.